Con Gianluca Bentivoglio parliamo di Terre Sanseveresi e di un premio che questa realtà ha raccolto oggi a Olio e Ristorazione. In che categoria e perché? Allora oggi abbiamo vinto il bicchiere di platino con il nostro blend di leccina e coratina o rodaunio biologico e invece con il monovariatale per anzana 100% abbiamo vinto il bicchiere d'argento. Nel mese di marzo abbiamo preso anche due euri per le forme dell'olio, sempre con olio officino. Allora siamo nati nel 2021, siamo proprio freschi e abbiamo puntato sempre a fare un prodotto di qualità un prodotto di qualità che quest'anno ci ha dato molte soddisfazioni sia con questo concorso che anche negli altri. puntiamo ad un prodotto di micchia che comunque ci distinguiamo dalla massa, però ci stanno dando ottimi risultati. A chi vi rivolgete nell'ambito della distribuzione, piccole realtà, hotellerie, grande distribuzione? No, piccola distribuzione e praticamente abbiamo uno shop online o questo. Poi non facciamo grosse quantità perché abbiamo 750 piante, quindi ci vogliamo concentrare su piccoli quantitativi per dare un ottimo prodotto.